Ho seguito i talk della giornata e sono estremamente tecnici, il mio non è così, quindi anche se siete un pochino cotti, diciamo, con un po' di stanchezza, il mio dovrebbe essere un po' una passeggiata, speriamo. Adesso mi auguro di non fare cose troppo, diciamo, ridicole, ma insomma, sono qua per spiegarvi quello che è il mio lavoro, cercando di farvi capire che anche se non è un lavoro da developer, non è necessariamente il giocare con le matite colorate che ci si aspetta dai grafici, tutt'altro. Allora, oggi vi parlerò appunto di un po' di tips and tricks riguardanti la UX, che sarebbe la user experience. Mi hanno già presentata alla grande, direi, quindi semplicemente vi dico che io sono una freelance interaction designer e attualmente lavoro in un co-working che si chiama Spazio19 ed è estremamente creativo e utile per mantenere la mente sveglia. E se volete seguirmi, contattarmi, chiedermi informazioni in generale, il mio account Twitter è Chioccio Lelaria Gatti. Detto ciò, passiamo al sodo. Cosa cavolo è il lavoro di un UX designer? Perché non è, diciamo, scontato? Risolvere problemi. So che moltissimi developer, spesso e volentieri, si identificano un po' con il ruolo di Wolf, di Pulp Fiction, perché sono dei problem solver essenzialmente. Ebbene, spesso e volentieri anche il lavoro dello UX designer è legato a risolvere i problemi, specialmente perché il suo compito è quello di creare una user experience, quindi un insieme di fattori, che adesso andrò a spiegarvi, collegata strettamente al tipo di attività che si sta producendo. Quindi essenzialmente mettersi nei panni dell'utente, che spesso sono estremamente scomodi e non sono assolutamente quelli in cui noi viviamo normalmente. Quindi uscire dalla propria comfort zone e andare un pochino a vestire i panni di un utente, per quanto estranei ci possano essere, capendo quali siano le loro necessità. Spesso e volentieri il design viene un po' confuso con l'estetica, lo style, la versione puramente grafica, che in realtà invece è solo una parte componente del design. Questa è una cosa estremamente sbagliata perché tende a sottilizzare un aspetto invece molto importante del nostro lavoro. Creare una buona user experience, quindi un buon design, vuol dire essenzialmente seguire un processo, un processo che ha dei suoi step ben specifici. Il primo è, come vi ho accennato prima, capire quali sono le necessità dell'utente, quindi stare a sentire il proprio utente, capirlo veramente, andando a identificare quelle che possono essere le sue caratteristiche, quindi un'età, una difficoltà magari legata allo sviluppo per dei disabili, oppure andare a capire quali siano il suo status sociale, il suo tipo di identificazione, capire qual è il ruolo in cui lavora. Vi faccio un esempio pratico, se voi dovete creare un'applicazione per un notaio o un commercialista o per un ragazzino di 13 anni che è tutto il tempo su Facebook, il vostro approccio dovrà essere estremamente diverso perché i notaio commercialisti, almeno quelli che ho conosciuto io, a malapena sanno cos'è un mouse, quindi non si può esagerare. Il secondo step di questo processo è andare a capire quali sono i requisiti dei device. Inutile che vi stia a dire che abbiamo una quantità di device ultimamente nel nostro settore che è impressionante e solo alcune delle prime cose a cui dobbiamo pensare possono essere la risoluzione, il tipo di capacità, la memoria, la velocità, un sacco di componenti che devono essere considerate durante la fase di progettazione. Se per esempio voi dovete fare un'applicazione per un Blackberry vecchio, vi sconsiglio di utilizzare delle gesture o comunque delle animazioni perché non ci starà dietro. Il terzo punto, ma potrebbe tranquillamente essere messo come primo, è andare a capire quali siano le vere funzionalità dell'applicazione. Evitiamo di fare cose senza senso, nel senso questa è la famosa caffettiera del masochista, per cui se uno rovescia il caffè dal manico si stiona la mano. Questo è un classico esempio di design bullo, se mi permettete il termine, perché si riferisce proprio a fare le cose senza pensare. Il marketplace, qualsiasi marketplace, Windows, Apple e Android sono abbastanza pieni di applicazioni, tranne quello Windows che forse ha ancora un suo margine di sviluppo. Evitiamo di fare cose che intasino il settore e facciamo invece delle funzioni, delle applicazioni, degli sviluppi, dei siti che abbiano un loro senso vero e proprio. Quarto punto importantissimo, interaction design. Ossia, interaction design vuol dire cogliere, almeno io vi do la mia interpretazione, cogliere tutti gli elementi descritti prima e trovare un modo di poterli mettere insieme, creando quindi un qualcosa di differente con degli elementi che magari al primo occhiata sembrano proprio sconnessi, tenendo sempre ovviamente a mente quelle che sono le esigenze finale dell'applicativo e le esigenze del nostro utente. Ultimo punto, visual. E voi mi direte, what the fuck, davvero il visual è l'ultimo punto? Com'è possibile? In teoria, se stiamo parlando di user experience, la grafica dovrebbe essere una parte fondamentale del tutto, dovrebbe essere assolutamente primaria. Invece no. Ossia, yes, è l'ultimo punto. Non è assolutamente una cosa primaria, perché a seconda di quale termine stiamo andando a andare, per cui stiamo sviluppando, quindi che sia un Android, un Windows Phone appunto, un Apple, la grafica alla fine è semplicemente un insieme di scelte di colori, di brand, di concept che vadano a vestire una struttura che noi dobbiamo già avere chiara in mente e dobbiamo già aver sviluppato. Quindi diciamo che la parte grafica dà il suo tocco, perché ovviamente è la parte che poi attirerà l'utente, ma non è indispensabile, non è la parte più importante di tutto questo processo. Le persone, spesso, citando Jeff Bezos di Amazon, non ricercano gadget e con gadget ovviamente per tutti gli androidiani, non mi riferisco alle fighissime widget che si possono trascinare sulla propria home. Come gadget intendo dire semplicemente supporti esterni, funzionalità che non abbiano veramente un loro senso. La gente ha bisogno di servizi, ossia qualcosa che li aiuti in qualsiasi sia la loro funzione, dal vedere tutte le sveglie impostate o gli ultimi tweet o gli aggiornamenti del proprio sito, non è importante. La cosa importante è che abbia un senso quello che viene fatto. Di conseguenza, io immagino che molti di voi staranno pensando, beh allora dovrebbe essere abbastanza semplice alla fine realizzare una buona user experience, insomma bisogna capire l'utente, bisogna capire i requisiti dei device, bisogna andargli a dare una vista grafica che poi alla fine si fa per ultimo step. Niente di difficile, no? Sbagliato? Non è assolutamente così. Creare una buona UX non è per niente facile, anzi spesso e volentieri si passa almeno il 40% del tempo andando semplicemente a studiare i supporti, i competitor ovviamente, quindi la concorrenza e andando a capire se ha un senso lo sviluppo di questa applicazione, senza nulla togliere al fatto che in tutto questo discorso un po' di testing farebbe bene, soprattutto a livello di experience, capire se quel pulsante inserito lì funziona oppure l'utente non lo vede. Sempre come il discorso di prima, purtroppo il testing viene spesso saltato, però. Ma nonostante il fatto non sia assolutamente un'operazione semplice, sono qui proprio per, insomma, vedere se posso essere d'aiuto nell'ottica più degli sviluppatori, dando qualche piccolo consiglio e qualche, diciamo, tricks, qualche trucchetto relativo allo sviluppo di una buona UX. Allora, il primo consiglio che mi sento di dare è più gesture, meno bottoni. Se voi pensate a un'interfaccia Apple, di solito l'Apple funziona con un pulsante che gestisce praticamente tutto quanto. Per esempio, pensate al primo iPhone, scusatemi, il primo iPod, anche se è stato copiato palesemente da Brown. pulsante nero tondo e si fa tutto. Se pensate a un'interfaccia Android, al contrario, di solito è un trascino e la magia accade. Ecco, purtroppo, ma almeno le mie UX di solito partono sempre con queste idee bellissime e poi diventano una cozzaglia pazzesca di tappo qui, gesture là, ma poi l'utente potrebbe voler fare così, quindi metto un'altra gesture. Non si fa così. Si fanno eventualmente poche gesture, si decidono quali e ne esistono tantissime, sono anche supportate a livello web grazie a delle buone librerie JavaScript, tipo mi viene in mente Hammer.js o, non so, ce ne sono tantissime, in cui si può fare un tap and hold, un pinch, uno swipe, quello che si vuole essenzialmente. La cosa importante è cercare di andare a togliere un po' quella visione da, mi viene in mente, non so, una radio anni 80, in cui devo schiacciare il pulsantino fisicamente. Non serve più, bisogna andare a fare qualcosa che invece sia più legato proprio alla gestualità, per creare una nuova interazione. Ricordatevi in tutto questo discorso che siano pulsanti o gesture, gli utenti devono toccare. Quindi, punto 2, qualunque sia l'interazione che ci deve essere, ci deve essere uno spazio ben calcolato, quindi la dimensione di un dito, per esempio, i famosi 69 pixel nelle applicazioni iPhone o i 200 pixel di larghezza necessari per far capire uno swipe. Insomma, qui c'è la piccola scherzo, non fate come Hammer, il rapper, anni 80, you can touch this, perché ovviamente poi gli utenti si arrabbiano. E noi non vogliamo gli utenti arrabbiati, anzi, per poterlo evitare, tutta questa serie di informazioni si può tranquillamente reperire grazie alla documentazione, che sia essenzialmente un'applicazione che siano appunto Apple, Android, Windows, di solito non è un problema, nel senso che assolutamente sono comunque ben documentate queste funzionalità. Vi faccio un esempio veloce perché purtroppo il tempo stringe. Se voi andate a vedere un pulsante, anzi, io passo subito al sodo, l'icona di Share, in questi tre diversi sistemi operativi vedrete che in Android è caratterizzato da tre pallini con due lineette, in Apple è un rettangolino con una freccia e in Windows è un pacchettino regalo. Se io ho utilizzato sempre Windows nella mia vita e sto creando un'interfaccia, per me potrebbe essere normale mettere l'icona di Share con il pacchettino regalo. Sbagliato perché poi invece io sto creando un'applicazione Android e la mia personale interpretazione andrà a non far funzionare il tutto per un utente che è abituato a un altro tipo di semantica. Lo stesso discorso vale per la freccia dell'Apple, non funziona così. Stiamo attenti quindi a fare un design per esseri umani, come citando Aral Balkan, che ho avuto la fortuna di sentire un annetto fa in una conferenza. Questa è la responsabilità della user experience, cercare di fare qualcosa perché l'utente sia soddisfatto. La quarta regola che mi sento di darvi è mantenete il tutto il più semplice possibile. Non è necessario andare a fare i miracoli, ma ci sono alcune piccole regole che rendono tutto molto più semplice. Per esempio, io detesto le applicazioni che senza motivo apparente mi richiedono una registrazione. Ad esempio, Pizzat, Mediafire è un'applicazione per mantenersi in forma. Come è possibile? Cioè, è un'applicazione, l'ho scaricata, devo poterla utilizzare, poi eventualmente mi potresti richiedere il codice di registrazione solo per sbloccare ulteriori funzionalità. Evitate di manomettere, diciamo, la funzionalità immediata che può avere un applicativo imponendo una registrazione, perché l'utente secondo me ne rimane molto irritato. Se proprio è necessario, utilizzate il login tramite social network, perché gli utenti li adorano. Per esempio, io utilizzo tantissimo il Connect con Twitter o il Connect con Google Plus. Ovviamente se l'applicazione è magari meno legata all'ambito lavorativo, ma è più diciamo per spasso, Facebook login e si sta tranquilli, anche perché io penso che in questa stanza nessuno non abbia un account Facebook. Eh, vabbè, tu niente. Il quinto punto è, dovete cercare di specificare subito qual è la funzionalità dell'applicazione. Sembra una banalità, ma se io non capisco subito a cosa serve questa applicazione, come dire, mi sentirò un idiota e questa cosa gli utenti non è che la interpretano dicendo oh, sono io che ho frainteso le cose. No, il loro primo pensiero è questa applicazione non funziona e la eliminano. Cerchiamo di capire che l'utente deve trovarsi di fronte a qualcosa che sappia capire e non qualcosa che gli sia estremamente sconosciuto. Sesto punto, utilizziamo i pattern. Esistono e sono vostri amici. Non è sempre necessario andare a inventarsi cose nuove. Esistono, fortunatamente, dei siti che danno un sacco di idee, un sacco di... purtroppo poi cancellate la prima i sul lato. Si chiama iOS Inspiration, questo sito. Esistono un sacco di risorse che possono aiutare a comprendere meglio quelli che possono essere i migliori pattern, ossia le gestualità più comuni, ormai riconosciute quasi a livello diciamo globale. iOS Inspiration, Android Wii Patterns, anche molto molto utile. Io ve lo consiglio se non lo conoscete ancora perché vi dà un pochino di paletti che sono importanti nello sviluppo. Patterns, che è legato sempre al mondo iOS ma è estremamente creativo anche a livello web perché ci sono degli interessanti suggerimenti. E poi Mobile Patterns, che a me piace molto. È un sito che raccoglie appunto gestualità comuni legati soprattutto anche all'utilizzo di applicazioni web, quindi non native. Ecco, tenete a mente questo. Questo è utile nel caso non sia un qualcosa di nativo perché se no potete cadere nella trappola di non utilizzare giustamente le guidelines che invece a livello nativo io consiglio sempre di utilizzare come fossero una bibbia. Ci sono altri 20.000 punti che potrei andare ad approfondire ma un po' il tempo stringe, un po' non voglio andare oltre. Quindi passo subito al bonus track essenzialmente che è presentarvi un'applicazione che è stata, che è molto carina secondo me, è assolutamente bella a livello grafico e anche utilizzabile ma ha chiaramente dei bacchi a livello di user experience. È la Yahoo Weather App per Android. Penso che se qualcuno segue Android, aspettate, androidweepatterns.com avrà già letto un articolo interessante riguardo. Vado un pochino veloce perché non vorrei rischiare di rimanere senza il tempo poi per concludere bene, quindi... Infatti, di conseguenza passo subito ad alcuni punti. Per esempio in questa applicazione hanno utilizzato delle icone che appartengono al mondo iOS nonostante l'applicazione sia nativa per Android. Perché? Cioè quel rettangolo con la freccia che esce fuori è stato chiaramente inserito da un utilizzatore iPhone che fa il mio lavoro e che non ha pensato che l'applicazione era Android. È un errore, è un errore trascurabile, però è un errore. Altra cosa, il drawer. Non so se voi sviluppate o avete già sviluppato delle applicazioni native, però esiste una buonissima documentazione sul sito Android per gli sviluppatori in cui spiega per filo e per segno come funziona questo drawer, che sarebbe questo menu laterale che appare e scompare. Ecco, sulla sinistra vedete l'applicazione come è stata creata, con questa iconcina con i tre trattini orizzontali che è appartenente al mondo iOS. Sulla destra vedete come è consigliato e come è un pochino stabilito diciamo, dal mondo invece Google. Quindi anche questa è una sottiliezza, però se bisogna fare le cose bene, bisognerebbe seguire le guideline. Anche qui, stessa cosa, una serie di impostazioni tipo Radiobox, Checkbox, utilizzate molto puramente iOS, quindi con un Dan in alto e con una serie di Radiobox che non appartengono alla grafica da Android. Al contrario, sulla destra potete vedere come funziona un sistema Android. Non fate arrabbiare l'utente, è sempre il solito discorso. L'utente abituato ad Android vuole vedere icone che sa riconoscere. Parliamo di social network, che assolutamente sono sempre da implementare nel discorso del sviluppo di applicazioni, secondo me. Queste due view. Allora, chiedo anche a voi un'opinione. Allora, la view sulla mia destra è assolutamente in linea con l'applicazione. È scura, ha tutte le colcine molto chiare, è perfetta. La view sulla mia sinistra invece al contrario è un'applicazione che è una view per il social network standard. Ok, resta il fatto che bisogna seguire le guidelines. Questa è la mia politica, se è possibile bisogna seguirle, perché l'utente si aspetta questo tipo di interazione, non si aspetta l'altra. Ovviamente si è liberi di farlo, non è un paletto per cui l'applicazione non andrà sullo store, ma sono comunque cose a cui un UX deve pensare. Non incasinate la mente dell'utente. Sarà già abbastanza confuso a volte, almeno ci sono dei settantenni che prevedono di utilizzare queste applicazioni. Confonderli non va bene. Una mia opinione è che la status bar non dovrebbe mai essere nascosta, proprio per questo motivo. La status bar è questo elemento, beh qua si vede, è quello della batteria, l'ora, eccetera. Ecco, io sono dell'idea che la status bar non dovrebbe mai essere nascosta ed è un'idea abbastanza diffusa anche nel mondo della UX a livello Android. Anche qui, so che è un'impostazione, si può scegliere, non è una cosa grave, però è un altro motivo di destabilizzazione degli utenti. Confusione, nel senso, vi ho detto una serie di miliardi di cose, anche spesso andando un pochino, come dire, in controsenso, nel senso che avete la libertà di fare tutto ciò che volete. Il mio consiglio è quello di sapere comunque le guidelines, perché questo vi permettono di poter fare una scelta oculata e non di dire questo è più figo e utilizzerò questo metodo. Di conseguenza, giusto per concludere perché il mio tempo è finito, amate il vostro lavoro, seguite quelle che sono le guidelines, inserite tutto quello che può essere creativo in ambito grafico e non andate troppo contro quelle che sono le regole comuni degli utenti e di sicuro questo renderà il cliente soddisfatto. Grazie per l'ascolto.